ciao a tutti oggi vediamo queste lenti particolari vediamo in particolare che una ha ingrandimento 15x mentre l'altra 10x la più piccola che è questa che stiamo vedendo adesso è quella da 10 ingrandimenti vediamo come si chiudono si apre questo coperchietto e si chiude la lente in modo da proteggerla completamente è tutta una struttura in metallo alla messa a fuoco la lente è leggermente rialzata quindi non appoggia ma solo la struttura appoggia sulla superficie come dimensioni la lente più piccola ha un diametro di 1,5 cm mentre quella più grande è 2 cm di diametro proviamo a guardare all'interno e vediamo la differenza questo è un 10x mentre questo è un 15x 15 ingrandimenti vediamo come la trama risulta molto più ingrandita le dimensioni di queste lenti sono a partire da quella più piccola 3 cm x 8,7 e un altezza sempre di 3 cm mentre la più grande è un 3,5 x 9 cm altezza 3,5 cm si tratta di lenti di altissima qualità utilizzabili in vari settori per la stampa la grafica piuttosto che le scienze naturali l'ispezione di piccoli oggetti la parte cromata superiore è protetta da una pellicola che poi viene rimossa io vi ringrazio per la visione di questo video per la vostra attenzione se vi interessano queste o altre lenti visitate il nostro sito elettronicadidattica.com vi aspetto per i prossimi video ciao a tutti a presto